Il circolo del Partito Democratico di Penne continua ad avere dubbi su come l'amministrazione comunale pennese stia gestendo l'emergenza coronavirus. Le prime perplessità arrivano dall'utilizzo del fondo alimentare e dai buoni spesa. Infatti, secondo il Partito Democratico, che porta avanti questa battaglia unitamente al Movimento 5 Stelle, il Comune di Penne finora ha speso poco più di 20.000 euro sui 90.000 previsti dalle misure urgenti di solidarietà alimentare, chiedendo entro quando si intende investire anche i restati 70.000 euro. Noi abbiamo chiesto prima che venisse rimpinguato questo fondo attraverso fondi propri da parte del Comune e dopo abbiamo chiesto che venissero inclusi, diciamo tra i beneficiari o meglio tra coloro che potevano presentare la richiesta per accedere a questi fondi, dei paletti meno rigidi rispetto a quelli che il Comune ha messo. Infatti, purtroppo, di questi 90.000 euro sono stati utilizzati circa 20.000 e quindi gli altri 70.000 sono ancora in giacenza al Comune inutilizzati. Altro dubbio sollevato dal centro-sinistra riguarda la questione deroghe dal momento in cui anche Penne è stata inserita all'interno della zona rossa. Infatti, secondo il Partito Democratico, tanta confusione è stata fatta attorno all'ordinanza numero 18 del Presidente della Regione Abruzzo, che permette ai sindaci di derogare quei lavoratori che hanno esigenza di uscire dai confini comunali. La gestione di queste uscite purtroppo non è all'altezza della situazione, permettetemelo, perché si è centellinato di molto le uscite, spesso dando anche motivazioni non esaustive. Molti lavoratori, molti operai che avevano una necessità urgenza di uscire, ci hanno contattato dicendo che non riuscivano ad avere neanche una risposta dal Comune alle PEC che inviavano. Questo secondo noi è molto grave, soprattutto perché in una situazione tanto emergenziale un Comune dovrebbe riuscire ad avere un contatto diretto con i cittadini che purtroppo sta mancando in questo momento. Poi la questione tamponi. Il Presidente della Regione Marsilio aveva annunciato l'avvio dei test per un'ampia fascia di popolazione appena superate le festività di Pasqua, ma ad oggi nessuna comunicazione in merito è stata fatta. Il tutto, conclude il Partito Democratico, a quattro giorni dal termine previsto per la zona rossa, salvo nuove comunicazioni. Ma in questo modo ci chiediamo, questi tamponi quando arriveranno? Quando ormai la zona rossa sarà tolta? E quale sarà allora l'utilità vera di questi tamponi? Quali saranno l'utilità? E ti ringrazio anche per la domanda, perché mi piacerebbe rivolgere un ringraziamento, questa volta non da parte del Partito Democratico, ma penso davvero da parte di tutta la cittadinanza, agli operatori sanitari che sono in prima linea, ma anche medici di base ed anche biologi che stanno lavorando intensamente ogni giorno per analizzare tutti i tamponi. Chiediamo di convocare immediatamente un Consiglio Comunale, che è l'organo supremo nel quale le minoranze e le maggioranze possono collaborare, possono proporre le proprie idee, le proprie iniziative. Noi fin dal primo momento abbiamo dato tutta la nostra disponibilità a collaborare con l'amministrazione, tutta, sia dal punto di vista umano, tecnico, gestionale. Noi siamo al fianco dell'amministrazione per affrontare questa situazione di crisi. Tuttavia abbiamo spesso ricevuto solo attacchi personali dalla maggioranza comunale. Noi però ci siamo. attacchi personali. Noi sono fatti. Noi sono fatti. Noi sono fatti. Noi sono fatti. Non c'è